Giorgio Gualtieri mi ha mandato demo per twitch tape, punto di mp3 Vai Ma una demo ha fatto apposta? Aggiorna la mail bro, si è aggiornata Un ossimo che sta succedendo? Mi sa che sei stato, sei stato bergato? Odio tua madre, odio i tuoi amici, il tuo gatto, il tuo cane, non me li presentare Simo sono Salmo un rapper emergente, ti ho inviato una mail con un brano buttato giù tra una scopata e una pugnetta Berga pezzo di merda Spero mi piaccia perché mentre mi segavo pensavo a te Berga pezzo di merda Mi fai schifo? Che pezzo di cazzo, sei stato bergato Ma che cazzo di novità è questa? Cos'è essere bergati? Noi! 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 Grazie.